E allora, siamo con il mister del San Cesario, Stefano De Matteis, vittoria in rimonta per 2-1. Allora, gara che non è iniziata nel migliore dei modi, subito penalty per gli avversari trasformato da cammu, poi bravi voi a restare, concentrati a restare con la testa in gara, la doppia di Guidi. Vale la vittoria finale, ovviamente immagino sia festa grande al triplice fischio. Dunque, quali sono le sue emozioni in generale, qual è l'umore della compagine San Cesario? Siamo contenti per i ragazzi, è stata una stagione complicata, poi il Covid, poi la categoria, sappiamo che io vorrei sempre il massimo dell'impegno, però capisco anche che i ragazzi, in un'unità particolare, comunque i miei sono stati abbastanza sentiti e abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Siamo andati sotto oggi, complimenti all'avversario, siamo andati sotto perché loro sul piano dell'agonismo ce l'hanno messo parecchio, sono stati bravi, determinati, sono entrati determinati, hanno trovato il vantaggio, però non ho un pezzio con l'esperienza del primo campionato che fortunatamente riesco a portare. Oltre a smesso ai miei ragazzi, tranquillità, sempre a rimanere in partita, anzi, siamo stati anche un po' troppo frenetici e frettolosi, però poi, a fine primo tempo l'ho rimesso un attimino in rida e siamo entrati con serenità a giocare la partita. Siamo vinta e siamo contenti. Domanda, Monteporzio che ha terminato a pari punti la regola del season con voi, vi chiedo allora, qual è stato il fattore che oggi vi ha fatto vincere? Secondo lei qual è l'elemento in più che oggi vi ha trascinato la vittoria? Ovviamente abbiamo legito bene al loro gol, però anche dal calcio e l'episodio abbiamo cercato di trovare il gol, l'abbiamo trovato, un episodio ci ha portato anche al vantaggio, al pareggio e poi al vantaggio, loro devono sbloccare su un episodio e il calcio e anche l'episodio, sono stati bravi anche loro, però penso che tutto l'anno, poi nella partita di oggi, qualcosina abbiamo meritato più noi e l'abbiamo portato. Perfetto, allora lasciamo il ministro andare a festeggiare, con il San Cesario, buon proseguimento di serata. Grazie, buona serata.